Potremmo definirlo un luogo sospeso, per usare le parole di Carlo Bo. Infatti il titolo del documentario è proprio L'isola che c'è, dedicata a Isola del Piano, che non è circondata dal mare ma da una splendida campagna. Quindi diciamo che è stata una bella scoperta poter girare questo documentario che è un vero e proprio tuffo nella storia, nella memoria, nelle testimonianze di quella che è la storia di questo paese. Un documentario che si articola su più puntate, quattro per la precisione, che cosa racconteranno? Sì, sono quattro puntate che abbiamo voluto anche un po' diversificare nella loro argomentazione. Quindi la prima sarà proprio la storia del paese e delle sue bellezze anche a livello turistico e anche di quelle che sono le iniziative da parte dell'amministrazione comunale per la valorizzazione di alcune strutture che sono state restituite con una nuova fruizione alla cittadinanza. La seconda puntata è dedicata alla storia di quel pioniere visionario che è stato Gino Girolomoni, quindi l'ideatore dell'agricoltura biologica, perché ricordiamo che negli anni 70 proprio da Isola del Piano è partito quel grande movimento di recupero di un'agricoltura buona senza l'uso di pesticidi, senza l'uso di veleni, anzi un ritorno proprio all'agricoltura più sana biologica. La terza puntata è dedicata invece proprio alla storia di Isola, un fatto anche tragico, doloroso, che è stato il recupero di un bene confiscato alla mafia, la fattoria della legalità e da qui abbiamo agganciato anche un riferimento a dei fatti dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. E infine l'ultima puntata sarà dedicata alle aziende che attualmente lavorano e vivono ed è stato bello notare comunque come tutte abbiano ancora un occhio privilegiato verso la produzione biologica, quindi un territorio veramente buono, pulito e sano. Per quanto riguarda le puntate, quando andranno in onda? Le puntate andranno in onda ogni mercoledì a partire dal 5 giugno alle 21.20. Quindi quattro puntate che più o meno copriremo tutto il mese di giugno, ma tranquilli perché ci saranno anche tante repliche se uno si perde la prima. Quindi 5 giugno, prima puntata alle 21.20.